Sale a un solo punto dalla zona playoff la Salernitana che nel recupero della seconda giornata di ritorno trova una vittoria pesantissima in trasferta contro il Lumezzane. Rinviata per Nebbia il 9 gennaio scorso, la partita si è giocata approfittando del turno di riposo del campionato di prima divisione. Vincono 3-1 i Granata al termine di una gara praticamente perfetta, sbloccata già dopo 15 minuti da Fava che appoggia a porta vuoto dopo un tocco di Ragusa. Al 37esimo arriva però il pareggio del Lumezzane sul quale la Salernitana protesta per un presunto fuorigioco dell'autore del gol Ferrari. Nel secondo tempo però i Granata, oggi in maglia bianca e azzurra a strisce verticali, chiudono subito l'incontro. Passano appena due minuti e Carlos trova il 2-1 con uno splendido calcio di punizione dal limite. Vale davvero la pena rivedere questo splendido gol realizzato dal giocatore della Salernitana. Al ventesimo infine ancora Fava che con la doppietta personale toglie le ultime speranze al Lumezzane. Ragusa mette al centro per l'attaccante che non sbaglia 3-1. Nel finale sempre Ragusa sfiora addirittura il 4-1 ma la punizione sarebbe stata forse troppo severa per la formazione lombarda.